Invito a tenervi aggiornati su Indice Alfabetico per vedere i video interessanti come il messaggio di Andrea Castellani sparito con l'intera famiglia dopo essere stato arrestato nel 2019 o video che non si trovano sulla piattaforma di YouTube, mentre per la traduzione che segue fate le vostre ricerche attentamente sull'effetto Corioli o sul pendolo di Foucault. Ok, quindi questo è il punto in cui siamo con l'intero dibattito o argomento sulla terra piana o teoria o argomento di discussione. Indipendentemente dal fatto che le persone si rendano conto o meno, chiunque è in grado di seguire effettivamente la matematica capisce che sto basando l'intero esperimento, la dimostrazione fisica della vera scienza basata sul metodo scientifico, senza parlare avambera con calcoli matematici, che qualsiasi professore di matematica in una università vicino a voi insiste sia vero che ci deve essere una deflessione in un filo a piombo. La deflessione massima al 45esimo parallelo dovrebbe accadere con un filo a piombo appeso a qualsiasi altezza. Secondo loro, a causa della rotazione della terra, parleranno e parleranno e faranno conferenze e insegneranno questo tutto il giorno, ogni giorno. Quello che non faranno è mai cercare di dimostrarlo effettivamente nel mondo reale. Lascio un link su questo video del mio canale principale, dove ho appena descritto come provarlo definitivamente. Se è necessario, deve esserci la loro deflessione del piombino, se esiste veramente o meno. L'implicazione è quando, non se, non viene rilevata alcuna deviazione in quel filo a piombo a qualsiasi altezza. Come ho dimostrato, potete prendere quel filo a piombo che devia due pollici, quattro pollici dalla verticale, secondo la loro matematica, con facilità. Con un filo a piombo lungo 61 metri dovrebbero esserci dall'alto verso il basso 1,2 metri di deflessione dalla verticale in quel filo a piombo. Significa che dovreste essere in grado di vedere facilmente 1,2 metri tra una linea di rivellamento laser e il filo a piombo sospeso. Questo in modo definitivo, con certezza, senza alcun dubbio, dimostra se la Terra sta ruotando o meno e se la Terra non sta ruotando il loro intero modello eliocentrico va a pezzi. Tutte le loro storie su Corioli, tutte le loro scuse sul motivo per cui i razzi si piegano in questo modo. Tutte le menzogne che hanno raccontato riguardo alla rotazione della Terra e al movimento relativo. Il movimento relativo, tutto cade a pezzi. Questo è il motivo per cui non lo faranno mai provare e dimostrare le loro equazioni matematiche sulla deflessione necessaria nei fili a piombo dovuta alla rotazione terrestre perché sanno che non sta ruotando. Invece insegnano che c'è una deflessione che deve essercila ma non provano mai ad appendere un filo a piombo e dimostrarlo. Se la gente non riesce a capire del perché questo sono le persone che prendete in giro e ridete dei terrapiattisti come una banda da arrestare perché loro sono nell'errore mati. Fate crescere le palle, appendete il filo a piombo e dimostrate che la Terra ruota. Scommetto tutto ciò che possedete e che non riuscite a farlo. Grazie.